Soltate le risorse positive che la tecnologia ci ha aperto in quarantena. Infatti gli alunni si esibiranno con i due strumenti che studiano a scuola, nella rielaborazione del canone di Pachebel, forma musicale barocca basata sull'imitazione di una melodia da parte di due o più strumenti. Nell'attesa di ritornare a fare musica in presenza, vi auguro un buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.